L'1 e 4 minuti, buonasera, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Il governo è al lavoro sulla manovra che dovrebbe valere fra i 30 e i 32 miliardi. Sul fronte dell'entrata si pensa ad una sanatoria per il rientro dei capitali dall'estero e a una maggiore tassazione degli extra profitti dell'energia. Poi ci sarà la revisione del reddito di cittadinanza e ancora misure sulle pensioni e per le famiglie numerose. Sentiamo. 30-32 miliardi di euro finanziati con uno scostamento di bilancio da 21 miliardi a cui si aggiungono i 9,1 già stanziati per mitigare il caro energia tramite il nuovo decreto aiuti. A tanto ammontano le risorse con cui il governo Meloni intende disegnare la manovra di bilancio attesa lunedì pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Tra le novità per recuperare risorse si valuta una possibile sanatoria per il rientro dei capitali dall'estero non dichiarati al fisco che potrebbe fruttare allo Stato dai 3 ai 5 miliardi. Ma ci tiene a sottolineare il Ministro dell'Economia e delle Finanze senza nessun condono di carattere penale. Altro cardine dovrebbe essere la rivisitazione della norma sulla tassazione degli extra profitti con un'aliquota che potrebbe attestarsi attorno al 33% come prevede il regolamento europeo rispetto all'attuale 25%. Nel documento è previsto poi che rientri l'ampliamento a 5 mila euro del tetto del contante escluso dal DL Aiuti Quater per la mancanza dei requisiti d'urgenza così come la legge di bilancio potrebbe contenere la riattivazione della società Ponte sullo Stretto in liquidazione dal 2013. Al centro del provvedimento ci sono in ogni caso gli aiuti a favore di famiglie e imprese per far fronte al caro bollette. Misure addirittura d'arrivo anche su pensioni, riduzione del cuneo fiscale e ampliamento della flat tax oltre alla revisione del reddito di cittadinanza in chiave restrittiva. E la manovra servirà al centro-destra anche per definire una tregua fiscale. Il piano dovrebbe prevedere cartelle esattoriali fino al 2015 cancellate fino a mille euro imposta dimezzata per quelle fino a 3 mila e rateizzazione per gli omessi pagamenti. Si svolgerà il 25 di novembre il vertice straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare la questione dei migranti. Oggi colloquio tra il nostro ministro dell'interno Piantedosi e la sua collega tedesca Feser Berlino accoglierà 3 mila migranti. Si abbassa la tensione diplomatica sull'emergenza migranti. In Germania nel corso del G7 sulla sicurezza il nostro ministro dell'interno incassa la conferma di Berlino ad accogliere 3 mila rifugiati secondo quanto previsto dal meccanismo di solidarietà UE su base volontaria. Inoltre Piantedosi spiega che l'Italia sui migranti non procederà da sola ma di concerto con l'Unione Europea. L'auspicio a Roma comunque è che i passi avanti registrati in Germania possano aprire la strada anche ad una distensione nei rapporti con Parigi sulla gestione dei clandestini dopo il caso Ocean Viking. Non solo, ma il nostro governo tiene alta l'attenzione anche su un altro piano che dovrebbe portare alla redefinizione delle regole sull'accoglienza al fine di alleggerire la situazione nei paesi di primo approdo come l'Italia appunto in sintonia con i partner UE. Intanto il ministro Piantedosi che con il suo omologo tedesco non ha affrontato la questione della responsabilità degli stati di bandiera dalle navi ONG sui rapporti con Parigi ribadisce «Non abbiamo mai avuto motivi di divergenza con la Francia e non li abbiamo mai creati. Confido che quanto prima avremo modo di chiarire ciò. Mi è dispiaciuto che non ci fosse il collega d'Armanen trattenuto da impegni parlamentari a Parigi. Sul piano migranti in preparazione daremo il nostro contributo. Ci sarà una proposta dell'Italia, che è quella dei paesi di primo ingresso, e non credo che andrà molto lontana da quella della Commissione». Il piano a cui fa riferimento Piantedosi prevede nuovi meccanismi per i ricollocamenti e regole trasparenti sui salvataggi in mare. Dovrebbe arrivare prima del prossimo Consiglio europeo degli affari interni straordinario, convocato per il 25 novembre. Anche se l'ultima parola ce l'avrà il Consiglio ordinario dell'8 dicembre. E oggi in Sicilia è stata sgominata una rete di scafisti. Si facevano pagare migliaia di euro per portare i migranti nel nostro paese e non esitavano a gettarli in mare. Arrestate 18 persone, 11 tunisini e 7 italiani. Scafisti esperti e imbarcazioni veloci con potenti motori fuori bordo. Sulla rotta a Tunisia-Sicilia trasferivano decine di persone in meno di 4 ore con un'organizzazione capillare che assisteva i migranti anche dopo lo sbarco e fino al momento della partenza sui treni diretti verso altri paesi europei. Ma li consideravano merce da buttare in mare nel caso qualcosa fosse andato storto durante la traversata. La squadra mobile di Caltanissetta ha ricostruito un sistema collaudato gestito da un'organizzazione criminale transnazionale composta da 11 tunisini e 7 italiani. La base era nelle campagne di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove i migranti erano condotti subito dopo l'arrivo in Sicilia. I magistrati della Procura siciliana hanno emesso 18 ordinanze di custodia cautelare in carcere. L'accusa è traffico di migranti. 12 persone sono state arrestate, 6 sono sfuggite alla cattura e sono attualmente ricercate. Le barche salpavano dai porti siciliani di Gela e Licata e rientravano con il carico di migranti. Sugli scafi spesso erano trasportate anche sigarette di contrabbando e hashish. Tutta merce, uomini, droga e sigarette da buttare in mare, così come si legge nella trascrizione di un'intercettazione. In caso di avaria del motore, intervento delle motovedette della Guardia Costiera italiana. Un passaggio costava fino a 5.000 euro. Ogni viaggio portava in Sicilia dalle 10 alle 30 persone e fruttava all'organizzazione tra i 30 e i 70.000 euro. La spartizione del denaro raccolto in Tunisia veniva attraverso le agenzie di money transfer. Una parte dei proventi veniva reinvestita per l'acquisto di nuove e più moderne imbarcazioni da utilizzare per il trasporto dei migranti. La guerra in Ucraina adesso, dopo i timori poi rientrati di un escalation del conflitto per i missili caduti sulla Polonia. Oggi sono ripresi massicci bombardamenti russi sulle principali città a partire da Kiev. Oltre 10 milioni di persone sono senza corrente elettrica, ha detto stasera il presidente ucraino Zelensky. Intanto arriva la notizia del prolungamento dell'accordo per l'esportazione del grano attraverso il Mar Nero. Mosca infine definisce politico il verdetto olandese dell'Aia che accusa i filorussi del Donbass per il missile che nel 2014 colpì il volo malese MH17 provocando 298 vittime. Torniamo in Italia, Silvio Berlusconi assolto nel filone romano del processo Rubiterra, era imputato con il cantante Mariano Apicella. Anche lui assolto, erano accusati di corruzione in atti giudiziari per la presunta falsa testimonianza di Apicella sulle feste organizzate ad Arcore. Assolto perché il fatto non sussiste. Silvio Berlusconi non nasconde la sua soddisfazione per l'assoluzione incassata oggi nel filone romano del Rubiterra. Quello in cui era imputato con Mariano Apicella, anche lui assolto. Entrambi erano accusati di corruzione in atti giudiziari per la presunta falsa testimonianza del cantante e chitarrista napoletano sulle feste organizzate ad Arcore. Contento e soddisfatto il leader di Forza Italia, anche perché ad aver chiesto l'assoluzione è stato il pubblico ministero che oggi in aula ha evidenziato che le date dei versamenti ad Apicella per un totale di 157 mila euro erano antecedenti al 2012. Anno in cui il cantante ha testimoniato nel primo processo Rubi a Milano. Difficile immaginare che siano dovuti alla presunta falsa testimonianza, anche perché tra Berlusconi e Apicella c'era un rapporto amichevole di lunga data, ha precisato in aula al PM Roberto Felici. Mezz'ora di Camera di Consiglio, poi il verdetto di assoluzione. È una sentenza ineccepibile, non c'era assolutamente alcuna prova di accordi corruttivi e la formula assolutoria, perché il fatto non sussiste, parla da sola, ha commentato all'avvocato di Berlusconi, Franco Coppi. Berlusconi era stato assolto in un procedimento simile a Siena a ottobre dello scorso anno, ricordato in aula dal PM. Si sono tenuti processi per casi analoghi, come a Siena, per una posizione speculare a quella di Apicella. Cambiava solo lo strumento musicale, ha affermato Felici. Si trattava del pianista Danilo Mariani. Il procedimento romano era uno degli stralci dell'indagine della Procura di Milano sulle cene leganti ad Arcore. È spacchettato sei anni fa tra diverse città per competenza territoriale. La polizia non esclude la pista di un serial killer per l'omicidio di tre prostitute avvenuto oggi a Roma nel centralissimo quartiere Prati. Due episodi a poche centinaia di metri l'uno dall'altro. Le vittime sono due donne cinesi di 40 anni e una colombiana di 65. Sono state tutte accoltellate nelle abitazioni dove lavoravano. Una delle donne cinesi è stata trovata sanguinante sul pianerottolo del portiere che ha dato l'allarme. Gli inquirenti stanno analizzando i tabulati telefonici delle tre vittime per risalire ai clienti. Era l'ultima notizia e l'informazione torna come sempre domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.